Combo è a GSM Verona in campo sul sintetico di Ponte Lambro per la quarta giornata di ritorno del massimo campionato. Stefano Ghirardello, sulla panchina giallo-blu in sostituzione dello squalificato Longega, presente in campo lo stesso schieramento iniziale visto sette giorni prima. Torna a sedersi in panchina dopo un lungo infortunio la greca con Gouli. Il prima opportunità sono per il Verona con Giuliano e Gabbiadini, mentre le lariane si affidano ai tentativi da fuori senza inquadrare la porta. Giallo-blu vicine al vantaggio al diciannovesimo quando Giuliano riceve in area da Gabbiadini e di prima intenzione gira a rete impegnando Ventura che si salva in due tempi. Poco dopo ci prova anche Boatin che da posizione molto favorevole non trova la porta. Al trentanovesimo Ventura compie un mezzo miracolo andando a deviare in angolo il pallone incornato in tuffo da Melania Gabbiadini ben servita da Giuliano. Si va a riposo a reti inviolate con le veronesi che non hanno sfruttato almeno tre opportunità importanti per sbloccare il risultato. Al quindicesimo della ripresa a sbloccare il risultato è il Como che sfrutta un gentile omaggio delle veronesi. Soffia e Talman non intervengono e Previtali insacca a porta sguarnita. Le scaligere si riversano in avanti ed ottengono la rete del pareggio al ventunesimo con Capitan Gabbiadini che lavora la palla in area ed insacca grazie anche a una conclusione deviata da un difensore. Martina Piemonte calcia tra le braccia di Ventura e sull'altro fronte Talman salva il risultato. Poco dopo è il palo a dire di no alla formazione lombarda che non riesce a sfruttare le amnesie improvvise delle gialloblu. Piemonte incorna sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma il pallone finisce a lato. La imita poco dopo Coppola che calcia alle stelle un buon pallone. Occasionissima per Manuela Giuliano al quarantatreesimo quando la numero 10 chiama Ventura alla difficile deviazione in angolo. In pieno recupero Martina Piemonte su assist di Giuliano incorna a botta sicura ma da due passi la numero uno lombarda si ritrova il pallone addosso e para. Finisce così uno a uno il match a Ponte Lambro punto prezioso per il Como contro un Verona sprecone che non sa più vincere. Vittoria per i colori gialloblu che Gabbiadini e compagni dovranno cercare di ottenere mercoledì nel derby di Coppa Italia con la Pro San Bonifacio.